ciao oggi si prova a fare l'esercizio space age di exorcism della traccia erlang ok l'ho già scaricato leggiamo le istruzioni data un'età in secondi calcolare età nel caso qualcuno si trovi su e ci sono i vari pianeti per ogni pianeta ci viene presentato un periodo orbitale espresso in anni terrestri infatti il periodo orbitale della terra è uno quindi se ci viene detto che qualcuno è un miliardo di secondi vecchio cioè se qualcuno ha un miliardo di secondi dovremmo essere capaci di dire che a 31.69 anni terrestri ok va bene se vi chiedete perché pluto non è stato incluso nella lista andate a vedere questo video di youtube ok lo farò forse stasera vabbè ok è chiaro possiamo aprire il file con il sorgente space age allora mi interessa mi voglio copiare questo che è il numero di secondi in un anno terrestre me lo copio qui e il browser lo possiamo nascondere ok andiamo tutto schermo e ho installato una un'estensione che dovrebbe centrare esatto c'entra l'editor così magari più comodo da da osservare ok questi sono i secondi in un anno terrestre bene allora direi che in ingresso alla funzione abbiamo il pianeta e il numero di secondi ok per cui quello che dobbiamo fare è ricavare la formula che poi dovremmo applicare a tutti i vari pianeti quindi la formula per per calcolare l'età l'età spaziale allora dovrebbe essere quindi i secondi in ingresso diviso diviso il numero di secondi in un anno terrestre moltiplicato per per il periodo del del vario del pianeta in questione dovrebbe essere così quello che possiamo fare qui è fare un pattern matching su sul pianeta e applicare e applicare questa formula perché quello la variabile che cambia da pianeta pianeta è il periodo per cui ecco mi devo copiare la tabellina con i vari periodi direi mi copio tutto tutta questa parte qui ok incollo e la convento bene questo punto possiamo fare un pattern matching sul nome del pianeta usando degli atomi mercury venus la terra bene bene possiamo usare la la formula che ci siamo che ci siamo ricavati riga 11 cambiare il periodo quindi mercurio anzi diciamo così sostituiamo and find con la formula no scusate sì quindi venus la terra a1 marzo jupiter ok jupiter ok jupiter ok jupiter e nettuno bene anzi anzi per completezza direi che possiamo scrivere così allora secondo me è già funziona già si prova ad eseguire i test bar 3 e unit si sono i test sono i test sono sono passati ora se volessimo fare un po di refactoring in questo caso quello che potremmo fare quello che potremmo fare è definire un'altra versione della della funzione age con ariti 2 dove come primo argomento potremo passare il periodo potremo passare il periodo e secondo argomento i secondi e avremmo come risultato la formula secondi diviso questo numero qui che sono i secondi in un anno terrestre per il periodo esatto così dovrebbe anche funzionare chiaramente qui la dobbiamo chiamare quindi age no scusate scusate dobbiamo sostituire seconds diviso vediamo questo numero per e qui voglio voglio catturare voglio catturare il periodo quindi è così esatto ok e quello che vogliamo fare chiamare la funzione age dove come primo parametro passiamo il periodo stiamo catturando troppo ecco così esatto così e come secondo parametro dobbiamo passare a punti secondi in ingresso terminiamo con un punto e virgola ok ok quindi questo è un un refactoring che possiamo fare esatto e funziona esercizio termina termina qui è stato abbastanza abbastanza veloce bene per cui possiamo fare il submit e come sempre se avete notato errore o se ho detto in esattezze potete commentare tranquillamente sotto al video quindi ciao e al prossimo video e al prossimo esercizio